Un'altra giornata incantevole per quanto vi riguarda anche nelle situazioni più banali in casa con il vostro partner riuscite ad essere sereni, felici ed appagati alla forza di una venere meravigliosa nel segno dei pesci che aggiunge anche un pizzico di romanticismo alla passionalità che con voi non manca mai Amici